E' in programma questa sera alle ore 20 presso la sala dell'oratorio San Giovanni Paolo II, presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie ed Agropoli, il primo confronto tra i candidati alla carica di sindaco della città cilentana. Massimo Laporta, Roberto Mutalipassi, Raffaele Pesce del Vila Serra saranno incalzati dalle domande degli operatori turistici per capire quali sono le strategie di intervento che ciascun candidato e ciascuna coalizione vuole mettere in campo per questo settore strategico. Ad organizzare l'evento l'Associazione Operatori Turistici Agropoli, a OTA, presieduta da Loredana Laureana, che introdurrà i lavori mettendo sul tavolo tutti i temi più scottanti, dall'emergenza alghe ai servizi turistici, alla destagionalizzazione, al commercio, alla lotta ai fitti in nero. A moderare l'incontro, Michela Di Gennaro, componente del direttivo AOTA, nel rispetto delle disposizioni anti-covid, è consentito l'ingresso libero ad operatori turistici e cittadini fino ad esaurimento posti.